Noi abbiamo portato il torrone al pistacchio, il torrone all'arancia e nutella sempre tutto prodotto siciliano, che se vuoi te lo facciamo vedere, questo è il pistacchio, poi abbiamo l'arancia e nutella alla cassata siciliana, un po' di specialità tipiche siciliane, abbiamo portato nutella e pistacchio, il cremino di pistacchio di Bronte, tutta roba naturale, solo naturale, mandorla di Sicilia, tutta roba originale.